Al governo, potreste chiudere anche un impianto come quello e se sì, come, facendo una legge da un giorno all'altro che non si usa più carbone in Italia? Noi abbiamo pensato di utilizzare, ovviamente sì, questo è Pacifico, naturalmente, le grandi centrali in Italia lo sa, sono a Brindisi e Civitale, quelli che non sono, perché poi a Brindisi abbiamo fatto il grande d'Italia e poi ci sta anche quella della Edison che è affinato, non ne so. Si può fare, si può fare con un sistema di sanzione di emissioni, cioè il problema è che come hanno fatto gli Stati Uniti a uscire, a limitare un pochino il carbone, hanno messo i 2.000 emissioni su carbone, non so se mi ricorda quella storia, allora noi se iniziamo a far pagare l'esternalità diventa meno conveniente, il costo di energia prodotta a carbone si alza e forse diventano teoricamente convenienti, tutte quelle centrali che sono state realizzate dal decreto marzano, sblocca centrale 2003, quando abbiamo costruito 25.000 megawatt di nuove centrali al ciclo, combinato con un'efficienza di circa il 60%, che sono lì e teoricamente soffrono. L'operazione marzano fu una operazione stupida, una operazione sbagliata, che noi quando eravamo fuori di qua, ma sempre i cittadini, contestavano in maniera radicale, perché quell'operazione che serviva teoricamente a avere un'efficienza di produzione energetica alta fu fatta senza chiuderla e centrale a bassa efficienza. Quello fu un errore strategico politico nella quale si assume tutta la responsabilità e poi il governo che all'epoca era il governo più solo. Scusi, una cosa solo a volo. Avete un'idea di che prezzo della CO2 sarebbe necessario per ottenere un'efficienza? Se posso... Allora, su questa questione, guardi, la carbon tax e tutte le questioni legate alle emissioni dei gas di manterranti saranno oggetto ovviamente di una proposta di calcolazione, però posso dire che la settimana scorsa l'ammiratore delegato dell'ENI, Descalzi, in audizione alla Camera, ha detto 40 dollari a tonnellata. Quindi io credo che diversi soggetti stanno ragionando su questa necessità e credo che oggi, con un prezzo del petrolio così basso, sia indispensabile mettere adesso, perché è il momento giusto per riuscire ad agire puntualmente su questo sistema e non scombustolare dal punto di vista energetico la questione. Oggi ci sono gli spazi per poterlo fare e agendo subito si riesce a farlo. Sì, allora io potrei cominciare dal fondo e darle qualche dato. Nel 2013 la Corte dei Conti Inglese ha fatto una stima di quanto poteva essere il costo della sola CO2 per tonnellate, ha detto tra 30 e 120 sterline. Questi sono dati del 2013. Ovviamente, adesso sembra che noi siamo i cattivoni che vogliono... Eccolo lì, che facciamo chiudere la centrale INEL. Allora, io le ricordo a tutti quanti la centrale Galileo Ferraris che c'è a Trino Vercellese che è stata costruita nel 1991 e che ha sempre funzionato a singhiozzo pur essendo dal punto di vista termodinamico un vero e proprio gioiellino. Quella è stata la dimostrazione di un investimento sbagliato. Per cui, noi non diciamo che le centrali a carbone debbano chiudere perché io ho schiacciato il bottoncino. Semplicemente, ciascuna centrale, ciascun ente, ciascun produttore di energia deve essere consapevole che quell'energia deve essere prezzata correttamente. Quindi noi vogliamo solamente ristabilire il paletto dell'equità. Cioè, ogni produzione di energia ha, tramite l'analisi di ciclovita, un effetto culla-tomba. Cioè, dalla culla alla tomba, quante sono le tue emissioni accumulate? Cioè, quanto costi alla collettività? In base a questo viene prezzata. Ed è questo il motivo per cui sono questi investimenti che si sono dimostrati investimenti sbagliati e quindi necessariamente andranno fuori mercato. Però non siamo noi, è il corretto prezzare dell'energia che rende certi modi di produrla assolutamente anti-economici.